Amore, non sai come sono contenta. Erano anni che sognavo un pranzetto romantico in questo ristorante. Beh, allora speriamo di avere un ottimo stipendio. O di trovare un lavoro, perché con questi prezzi sarà impossibile mangiare qui. È chiaro, siamo nel ristorante vegano, il futuro dell'alimentazione mondiale. Siete pronti per ordinare? Avrebbe mica del filetto di maiale? Piccolo, eh? Piccolico. Credo di non aver capito bene, scusi. Gli sparano mentre corrono liberi nelle praterie, li uccidono e li macellano senza pietà. Ma dai, era una battuta. Non volevo mica offendere nessuno. Per un pugno di hamburger. Qualcosa da bere? Per me dell'acqua naturale vegana. Al cinema. Forse, perché poi non è che noi ci si prova, però magari si vede. Per me dell'acqua cellulosa. Grazie a tutti.